Buon compleanno al forum diseguaglianze e diversità. To be different, to be equal. Essere diversi, essere uguali, essere diversi perché siamo esseri umani, essere uguali perché siamo esseri umani, è un invito ad essere ciascuno di noi start up di se stessi, della propria vita, superando così di diseguaglianze di nascita, di reddito, di origine geografica. Una grande missione, un messaggio per tutti. A Palermo come nel mondo intero.